Faltugnano sarà collegato all'acquedotto, arriverà il gas e sarà potenziato l'allacciamento alla connessione internet. Entro il 2021, quindi, saranno collegate una trentina di utenze. Si va a realizzare un sogno che viene richiesto da una comunità almeno da tantissimi anni. L'acqua è un problema che ciclicamente nella stagione siccitosa si ripresenta, il gas non ce l'hanno mai avuto e la connettività va a rilento. Per lo sviluppo di una comunità è importante riuscire a portare tutti e tutti i servizi. Il compito dell'amministrazione è stato quello di mettere non solo le risorse, ma mettere a un tavolo i vari gestori in modo da riuscire a fare un progetto compiuto e possa dare soluzione a questo nostro problema. Faremo un'unione di lavori insieme, questo anche per fare in modo di non creare troppi disagi ai residenti, perché durante le opere chiaramente il traffico verrà limitato, verrà spostato su altri vedi di comunicazione. Nello specifico, i lavori, cofinanzati dal Comune di Vaiane da Publieacqua, prevedono la posa di 920 metri di condotta idrica. È prevista anche la costruzione di una pompa che consentirà di spingere l'acqua dal serbatoio Gamberame Alto a Fantugnano. L'intervento costerà 422 mila euro circa, di cui il 60% finanziati dal Comune di Vaiano. L'altro fronte riguarda il secondo lotto dell'accordo del Tessile. Aggiungiamo anche il servizio della fognatura e il rifacimento di tutta l'asta fognaria che corre da Vaiano fino verso Prato, quindi con una riqualificazione, soprattutto nel tratto che attraversa la fignamica, la briglia e Gamberame, andando a riqualificare anche tutto questo tratto di fognatura che corre nell'alvio del fiume, sia sul lato destro che sul lato sinistro, e quindi andando anche a migliorare, non solo visivamente ma anche proprio nella sostanza, un servizio assolutamente importante per questo territorio.